L'impatto con il gruppo è stato buonissimo, anche perché è un gruppo fatto di persone tranquille, persone che hanno voglia di lavorare. Come hanno detto anche la società, il mister, è comunque un gruppo, una squadra che sul mercato deve ancora intervenire, parole loro, quindi non sono io. E certamente potrà arrivare gente che ci può dare solo una mano e credo che non farà fatica ad ambientarsi nel gruppo perché, lo ripeto, non c'è assolutamente nessun problema. Io ho sempre, diciamo, la maggior parte delle partite in tutti gli anni, l'ho sempre disputata a destra e mi sono trovato a giocare anche a sinistra in varie partite, anche ai difensori centrali. L'oggio uno ha sempre una preferenza di ruolo dove può esprimersi al meglio, per me è quella di terzino destro, però nel momento di bisogno il mister ci deve fare dei sacrifici e secondo me ci dobbiamo sempre mettere a disposizione sia del allenatore sia del gruppo, perché qualunque ruolo uno faccia lo deve fare sempre con il massimo impegno per aiutare anche i compagni. Sono sicuramente parole che fanno piacere perché vuol dire che da quando sono qui ho dato una buona impressione, però è sempre il campo quello che parla e uno bisogna impegnarsi sempre allenamento dopo allenamento per poi poter confermare queste parole dell'oggio che vengono fatte. Io ho disputato tutte le categorie, dall'eccellenza arrivare l'anno scorso in Serie A, anche se non è stata un'annata particolarmente bella, dove ho giocato poco, però mi è servita di esperienza e se ho deciso comunque di venire qua e per rimettermi in gioco sicuramente c'è tanta voglia di giocare e tanta voglia di far bene.